Carissimi cinefile, carissimi cinefili, ben ritrovati in questo nuovo video. Dunque, sono uscito da qualche ora dalla sala, sono andato a vedere Tenet di Christopher Nolan e vi avverto sin da subito che qualche spoiler lo farò, devo farlo, ma non sono del tutto sicuro di essere in grado di fare un video sufficientemente lucido su questo film. Allora, premetto che da qualche tempo a questa parte, diciamo, dal ritorno del caverro oscuro, compreso, devo dire che Nolan non è stato un regista che abbia suscitato in me chissà quale entusiasmo. Devo dire che Dunkirk, che è stato il suo ultimo lavoro, ormai penultimo, vista l'uscita di Tenet, è un film che mi ha deluso, mi ha deluso non poco, e ne ho parlato copesamente sul canale, quindi al limite vi rimando al video dedicato appunto a quel film, e anche gli altri, insomma, Inception, Interstellar soprattutto, non mi hanno convinto francamente. Tenet forse qualcosa in più rispetto a questi film è riuscito a darmi, ha suscitato sicuramente il mio interesse nel corso della sua visione, e ha saputo mantenere vivo tale interesse per tutta la durata della pellicola, questo sì. Quindi già questo è qualcosa che deve essere registrato. Il film è sicuramente complesso, la tematica del tempo, della gestione, dei punti di vista, la scomposizione dello sguardo, la dilatazione temporale, sono tutte cose che Nolan ha sempre trattato sin dagli inizi, basti pensare alla sua seconda opera, Memento, che è insieme a De Prestige, forse il suo film migliore, il più riuscito. Quindi in Tenet abbiamo di nuovo la questione del tempo al centro dell'attenzione e proprio della teoria, diciamo, cioè un film teorico, questo proprio, su come gli sguardi possono essere moltiplicati, come possono essere scomposti, come si può manipolare il tempo, come si può manipolare l'azione e come si possono manipolare i sensi anche dello spettatore. Poi non è detto che questa cosa vada bene a tutti, non è detto che questa cosa piacerà a tutti. Io personalmente vedere ciò che si vede, cioè insomma mettere insieme una cosa che va avanti come una cosa che invece va a ritroso, per me ad un certo punto è risultato abbastanza faticoso, se non addirittura irritante. Però senza dubbio costituisce una novità, questo è innegabile. Il film è una spy story con una buona dose d'azione, con una buona dose anche di tensione, cioè secondo me ancora una volta una buona costruzione della suspense. Nolan quando non si perde in problemi di scrittura, è uno che è in grado attraverso la regia di costruire la suspense in modo efficace e secondo me in questo film che ha una scrittura alla fine semplice da un certo punto di vista, questa costruzione riesce bene a Nolan. Forse il problema sta nella dinamica, o meglio nelle dinamiche dell'azione, come si svolge l'azione ad un certo punto del film, nella seconda metà del film veramente diventa un casino, non c'è un altro termine per definirlo, diventa un casino e anche se gli stai dietro fatichi, fatichi molto proprio a comprendere come certe cose avvengono sullo schermo, però allo stesso tempo rimani colpito, innegabilmente colpito. è un film che riflette sul mondo di oggi anche, non è un semplice film di intrattenimento, questo è un altro aspetto che io apprezzo di Tenet, è un film che riflette sul nostro tempo, sull'umanità, sulle persone del presente che si comportano come se non esistesse un passato, un passato che non ci ha insegnato nulla, quindi ancora una volta torna purtroppo, purtroppo l'idea di una storia che insegna ma non ha scolari, non ha persone che appunto apprendono da essa. È un film dove si punta il dito contro l'arroganza dell'essere umano che si crede di essere Dio, si crede di essere onnipotente, si crede di avere il diritto di dominare la terra, di dominare la realtà, e se questo non gli piace allora si sente anche in diritto di distruggere tutto. e questa cosa ha molto a che fare con il personaggio di Sator, ovvero Kenneth Branagh. Personaggio interessante il suo, un cattivo che rappresenta un po' il delirio di onnipotenza, diciamo il Dio creatore e distruttore allo stesso tempo. E' interessante poi i termini che vengono utilizzati all'interno del film, Sator, Tenet, sono parole che si possono trovare all'interno del cosiddetto quadrato del Sator. un quadrato magico che praticamente è composto di parole palindrome e quindi che uno inizi dalla fine o dall'inizio alla fine ha la stessa composizione, la stessa frase. e Sator in questo quadrato magico, in questa frase che compone il quadrato magico, sta ad indicare il seminatore, cioè colui che dà la vita, il creatore, il Dio. Questo sia che si tratti della religione classica romana o che si tratti della religione cristiana. In ogni caso Sator è Dio. E c'è un personaggio che porta appunto questo nome che però poi alla fine del film scopriamo non essere il vero Sator. Il vero Sator è il protagonista, cioè John David Washington. Il film sicuramente ha molteplici chiavi di lettura. Io non sono del tutto sicuro di aver colto tutto quello che voleva dire Nolan. Forse il fulcro, il fulcro del film che ha a che fare appunto con la critica all'umanità, al suo delirio di inipotenza, al fatto che si comporta in una maniera sconsiderata, ignora il passato, si sente padrone di tutto, anche del futuro. Credo che questo sia un po' il cuore del film. Un film che ha dei personaggi alcuni che sono abbastanza caratterizzati, abbastanza anche complessi, come il caso di Kat Sator, la moglie di questo folle malato terminale che è interpretato appunto da Branagh. Lei è una figura molto importante all'interno del film, è una madre che lotta per il proprio figlio, per la salvezza del proprio figlio e in un certo senso per la salvezza di tutti. La madre che lotta per il figlio è l'essere umano che lotta per il futuro in un certo senso. E poi ci sono gli altri due personaggi importanti, cioè Pattinson e Washington stesso, i quali mi hanno ricordato veramente dei personaggi di stampo leoniano. Il film è anche un po' un buddy movie, se vogliamo, perché il rapporto fra i due personaggi cresce nel corso nel corso del dipanarsi della storia e praticamente sono dei personaggi abbastanza bidimensionali, soprattutto quello di Washington, ma appunto mi paiono di stampo leoniano alla Spaghetti Western, soprattutto quello di Denzel Washington, Denzel Washington, scusate, Lapsus, di John David Washington. Lui veramente ricorda molto il pistolero senza nome, Clint Eastwood nei film di Sergio Leone ed è quello che poi alla fine ha dichiarato lo stesso Nolan. Lui voleva inserire un elemento tipico dello Spaghetti Western in un film che magari come storia, come contesto, come genere è invece più vicino a James Bond, ai film di James Bond. Però ecco, nonostante questa mancanza di profondità, però è giustificato. Cioè, il regista voleva che i personaggi fossero così, quindi non è un problema della scrittura, è un problema che magari il pubblico o una certa parte del pubblico non ha capito quello che aveva intenzione di fare Nolan con questi personaggi, con questo film. Di sicuro non sono personaggi con cui si empatizza più di tanto. Io ho empatizzato forse un po' di più con la moglie di Sator perché comunque la sua ha una motivazione insomma assolutamente condivisibile. Lei lotta per salvare la vita di suo figlio ed è una persona che si trova in una situazione molto difficile. Cerca di sopravvivere, cerca di non compiere passi falsi prima del tempo, gioca anche lei la sua partita che non necessariamente coincide con quella degli altri che devono salvare il mondo ed è un personaggio che dimostra di avere comunque una forza notevole. Personaggio femminile che io ho veramente apprezzato. Con gli altri invece non c'è enorme empatia. Io credo di aver provato più empatia verso le situazioni cioè il fatto che comunque questi qui devono salvare il mondo devono evitare la distruzione totale e quindi mi interessa che il mondo venga salvato. Ma soprattutto perché Nolan in questo film è in grado di costruire bene la tensione io mi sento particolarmente coinvolto e spero che gli eventi si risolvano in un certo in un certo modo abbiano una certa conclusione risoluzione che sia chiaramente quella positiva ma ci sono dei momenti nel corso del film in cui sei portato a dire porca miseria è finita non ce la farà e adesso come andrà avanti la cosa qual è la via d'uscita quindi questo vuol dire che dal punto di vista della scrittura Nolan è stato ben consapevole di che cosa fare che cosa voleva fare con i personaggi come portare avanti le loro azioni eccetera quindi su questo mi sento di dire che anche che anche qui Nolan ha fatto un lavoro efficace non tutto è perfetto non tutto è buono ci sono momenti appunto in cui non si capisce bene cosa sta succedendo cioè come come avvengono proprio le dinamiche dell'azione oppure ci sono dei salti il montaggio secondo me ha dei punti in cui è un po' claudicante in particolare mi ricordo bene il momento in cui praticamente il protagonista perché così viene viene chiamato Washington dopo che c'è stato un conflitto a folle velocità in questa questa specie di 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 autostrada lui viene catturato mentre c'è una sparatoria e c'è uno stacco e subito lui si trova in un altro posto e e lì viene appunto interrogato per sapere dove si trova un pezzo di un di un macchinario che poi è il Tenet che è diciamo il motivo per cui ci si scanna tanto in questo in questo film e cioè in quel momento erano arrivati i rinforzi Pattinson li aveva li aveva chiamati però gli uomini di Sator arrivano prendono prendono Washington ma non è che noi vediamo che lo prendono lo caricano in macchina riescono a superare o a seminare i rinforzi che sono che sono arrivati no semplicemente lo prendono abbiamo lo stacco e lui già è in un altro luogo senza che però sia stato utilizzato che ne so il teletrasporto o roba del genere perché si può ci si può spostare nel tempo ma chiaramente da un luogo ad un altro invece bisogna utilizzare i mezzi convenzionali e quindi lì veramente è come se mancasse proprio un pezzo lì proprio ho sentito il montaggio proprio tagliato con l'accetta come se mancasse chiaramente qualche qualche secondo se non addirittura qualche minuto e poi il problema è anche la comprensibilità globale del film non è qualcosa di immediato io penso che per comprendere a meglio tutto non so nemmeno se è possibile però per comprendere ancora meglio il film bisognerebbe veramente rivederlo cinque volte sei volte solo che però insomma sono andato a vederlo non ho intenzione di ritornare in in sala anche perché non avrò non avrò modo purtroppo e e quindi anche questo video insomma come vi ho detto all'inizio non sarà proprio lucidissimo puntualissimo non sarà di chissà quale chiarificazione perché capisco che anch'io con il mio limitato intelletto ho potuto capire solo alcune cose del film da un lato mi sentirei di dirvi che tutta questa complicazione anche in alcune spiegazioni che vengono date soprattutto da Pattinson che sconfinano anche nel paradosso sono spiegazioni che sono effettivamente complicate io credo che il regista se ne sia accorto infatti ci sono delle battute all'interno del film che in maniera sottile e in modo metacinematografico strizzino un po' l'occhio al al pubblico come a dirgli eh lo so ti capisco è complicato ma lasciati trasportare no? ecco secondo me Nolan ha voluto anche un po' giocare con con gli spettatori e e ha inserito questi questi momenti queste queste battute che alleggeriscono anche un po' la pesantezza della della materia trattata e di e di come anche è stata trattata eh ci sono riferimenti a secondo me anche ad altri film eh che già hanno trattato i viaggi nel tempo penso a a Terminator penso a Ritorno al Futuro eh ci sono riferimenti anche a Matrix a mio avviso eh quindi è un film che eh ripropone tematiche situazioni eh quadrature il movimento eh dei degli oggetti e dei corpi in scena le scene d'azione che eh che sono secondo me splendide in questo film più delle volte veramente le scene d'azione qui sono state gestite benissimo soprattutto la sequenza del dell'aereo che che si schianta nell'hangar è è d'applausi lì è semplicemente d'applausi bellissima spettacolare sicuramente vederla al cinema è di una è di una potenza eh strabiliante ma ripeto tutte le scene sono 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 state gestite bene forse in alcuni momenti c'è la c'è la macchina da presa che è un po' troppo mobile eh con pochi punti di riferimento molta molta mobilità forse eccessiva può risultare in alcuni momenti fastidiosa eh però rimane il fatto che nel complesso insomma un film d'azione eh questo che ha delle delle scene veramente veramente belle e ben e ben gestite a mio a mio avviso e e poi anche la colonna sonora eh anche la colonna sonora è secondo me adatta veramente adatta sottolinea bene i momenti eh non è invasiva come come lo era stato per esempio in Dunkirk ed è assolutamente funzionale per quello che noi vediamo in scena e la recitazione funzionale funzionale Branagh mi è piaciuto molto nella parte del del cattivo del villain ma tutti tutti alla fin fine mi hanno mi hanno convinto e Washington eh ho sentito in giro insomma l'hanno chiamato anche un pupazzetto un manichino che sta lì che non c'ha tante espressioni ma ragazzi Clint Eastwood nei nei film di Leone aveva due espressioni con e senza il cappello eppure è un personaggio che è rimasto è rimasto nella storia e la recitazione soprattutto di Eastwood era perfettamente funzionale al tipo di personaggio che gli avevano cucito addosso certo Washington non sarà mai Eastwood nei panni del pistolero senza nome di Leoniana memoria ma se questo era il personaggio che Nolan gli ha chiesto di interpretare ben venga che sia così ha fatto quello che doveva e poi anche la la fotografia anche la fotografia secondo me è ben curata capiamo bene dove ci troviamo l'illuminazione l'illuminazione secondo me è sempre ottimale e quindi per me il film tutto sommato tutto sommato è buono regge io sento al mio interno un po' di sensazioni contrastanti perché non non riesco a schierarmi totalmente dalla parte dalla parte di di Tenet perché ripeto ci sono delle cose che non mi hanno del tutto convinto e mi hanno anche infastidito però da un da un altro lato non posso dire che questo film riesca a a fare una narrazione cioè non posso dire che questo film non sia dotato di una narrazione comunque efficace non posso dire che alla fine sia del tutto incomprensibile no il film si capisce alla fine cioè quello che quello che devono fare i personaggi quello che è il senso della storia lo si capisce è un film anche profondo in realtà è un film profondo è un film che fa del metacinema è un film che fa dell'ironia è un film che non si sbilancia mai troppo sul discorso della violenza lì Nolan rimane un po' più abbottonato però è un film che come dire mi è risultato più più vicino cioè io più che con i personaggi come avevo detto prima ho empatizzato di più con il film con con la storia e con tutto il resto e e considerando che si tratta di Nolan uno dei registi più più freddi o comunque che buona parte del pubblico recepisce come freddo come asettico distaccato ecco Tenet invece ho sentito un maggiore calore da parte di da parte di Nolan e questo non me l'aspettavo non me l'aspettavo il film può risultare pomposo può risultare eccessivo barocco già dal trailer si si poteva intuire questa cosa però penso che questo non sia andato a mangiarsi completamente il film ripeto capisco che possa dare fastidio però comunque riesce ad avere un suo perché è una cosa contestualizzata è una cosa giustificata e quindi Tenet si degli ultimi lavori che ha realizzato Nolan quindi da dal ritorno del Cavale Oscuro ad oggi forse questo è il suo miglior film quindi quindi Tenet è un'opera che comunque merita di essere vista al cinema Nolan merita sempre di essere visto al cinema ovviamente è un film che mi ha sorpreso mi ha sorpreso e quindi già solo per questo io comunque mi sento di di promuoverlo e di consigliarvelo se non siete ancora andate in sala a vederlo andatelo cioè andate a vederlo o andatelo a vedere e non vi spaventate se vi sentirete confusi è perfettamente normale però andate senza pregiudizi fatevi prendere la mano dal film e vedete dove vi porta poi se il viaggio vi sarà piaciuto allora avrete un film sicuramente da ricordare altrimenti lasciate perdere magari insistete un'altra volta magari riguardatevelo e anche io me lo dovrò riguardare di sicuro ma se proprio non vi piacerà pazienza insomma ci sono talmente tanti altri film da vedere che sicuramente lì nel mucchio troverete quello che vi farà dimenticare Tenet e tornare a star bene quindi niente ragazzi questo è quello che penso in maniera estremamente disarticolata del film di Nolan e niente vi auguro una buona notte iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto commentate condividete e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti